Ciao, benvenuto all'aggiornamento ciclico con l'indicatore volt time sul natural gas. Che cosa ci aspetta per i prossimi giorni? Il mercato è totalmente laterale, anche se finalmente iniziamo a vedere che le fasi rialziste generate dalla sinusoide ciclica iniziano a essere, tra virgolette, prese in considerazione dal mercato. Analizziamo cicli dal 18 mesi fino al 20 giorni, vado a spostare come di norma il picco del ciclo 20 giorni, come ben saprai, ormai me l'avrai sentito dire un miliardo di volte, la piattaforma MT4, scusami MT5 in questo caso non la cambia, cancella i sabati e le domeniche perché non ci sono contrattazioni e vengono proprio tolti i giorni dalla piattaforma e questo porta a dover ovviamente aggiustare le date in avanti. È normale che sia così con la mancanza di date. Il minimo previsto per il 26 di maggio sembrerebbe spostarsi anche lui un pelo più avanti, l'indicatore non l'ha ancora confermato e al momento lo lascio il 26 di maggio così vediamo di quanto si andrà poi a scostare, ok? Rispetto a quella che è stata la previsione, anche se il 20 giorni lo dava un pelino più avanti, lo dava intorno al 30 di maggio, quindi possiamo anche andare a mettere questa come media onestamente. Ok? Cosa dobbiamo quindi aspettarci per i prossimi giorni? Velocemente andiamo solo a fare una brevissima presentazione di chi sono, sono Paolo Peisino, mi puoi trovare sul sito 3dayportutti.com negli ultimi 15 anni di mercato e gli ultimi 10 li ho passati a studiare l'analisi ciclica. Ti invito a visitare il sito Unite Canale Telegram gratuito, prendere visione dei servizi che metto a disposizione, insegnare intraday sugli indici, l'indicatore è volta in con il canale Telegram dedicato, il corso di analisi ciclica e volumetrica che mi stanno adesso copiando, praticamente ogni giorno nasce un nuovo formatore di analisi ciclica che si definisce tale, ma l'analisi ciclica bisogna conoscerla veramente molto bene. Ho creato appunto sia un programma formativo, che ormai esiste da anni, e un indicatore unico, perché è un indicatore proprietario, con un algoritmo proprietario, per poter appunto lavorare con l'analisi ciclica. Andiamo a vedere come si è chiuso il mese di maggio, il mese di maggio dal punto di vista dei segnali è un mese leggermente negativo, lo vediamo, Nasdaq siamo sotto di 40 punti, DAX abbiamo chiuso 2,59 con un bel recupero a fine mese, il Dow Jones ho smesso praticamente dopo una settimana di fare trading, tre stop loss di fila, e ho deciso tra l'altro di non tradarlo più, non tradarlo più il Dow non perché ha generato una perdita, ma perché ha un costo, ha una volatilità che è tre volte il DAX, e la maggior parte dei traders purtroppo entra con una size sempre uguale e il Dow Jones viene a costare troppo, in realtà se facciamo due conti è stato un mese leggermente negativo utilizzando la size corretta per ogni singolo strumento, però se io faccio conto dei punti è in realtà stato un mese che vede perdere più di 200 punti, quindi il Dow non ci sarà più dal prossimo mese, così come il segnale sulle valute perché è per una mancanza di abbonati sostanzialmente solo sulle valute. L'anno rimane comunque positivo con 1021 punti sul Nasdaq, 340 punti sul DAX, meno 316 sul Dow, che ahimè rimarranno sempre così, rimarranno per tutto l'anno negativi, ma pace e amen, problemi non ce ne sono, vedremo alla fine dell'anno cosa e se sarò riuscito a portare a casa con un mercato veramente molto difficile, mercato monodirezionale, abbiamo avuto otto mesi consecutivi di rialzo sui mercati, in una difficoltà enorme perché non hanno fatto praticamente quasi mai swing con giornate in intraday da 400-500 punti, veramente difficile, un mercato iper mega complicato, però i conti si fanno sempre alla fine dell'anno, mai durante l'anno, e soprattutto mai dopo un mese. Quindi sul gas cosa facciamo? Aspettiamo un attimo, togliamo un attimo il 20 giorni, lasciamo il 40, aspettiamo un attimo e andiamo a cercare a questo punto un rialzo sulla rottura ovviamente di 2,72$. Questa rottura, essendoci una fase di rialzo, ci darà l'occasione di poter mantenere una fase rialzista indicativamente fino all'11-15 di giugno e il primo livello di resistenza da prendere in considerazione sarà 3,08$, 3,02$ e il successivo tutto questo blocco di 3,44$, 3,90$. Mi raccomando, è importante attendere comunque una conferma, non entrare direttamente perché potrebbe essere molto pericoloso perché non c'è da escludere che la speculazione continui a mantenere il prezzo su questo livello. Questo direi che è tutto, ti do appuntamento alla prossima analgi. Ciao ciao!